Lui? Ogni volta che sono vicino a quella ragazza perdo il controllo. Lei? Saremmo una coppia fantastica noi due. L'altra? Lo so che ti piace il mio fidanzato. È loro! Anche quando tutto sembra perduto... Andiamo così tanto, e tu? Infinitamente. Viva il tuo! Flore! Oggi alle 18.25 su Voi! Ho, ho!